Notte, bello! Grazie per il follow! Forza Napoli! Tosta tosta! Mal di schiera mi sta venendo, star seduto! Ed è mai fatto, adesso ho inventato il cuscino! Mannaggia, così ci devono fare, mi dà fastidio! Eh, quell'altra lì con la skin... Sto mangiando pasta lenticchie piccante buonisima! Di dove sei, Anto, che mangi queste cose così? Comunque, dai, non sta andando male, eh! Oh no! Coaching! Se sei forte ti aiuto! Qua hanno scritto coaching e uno gli vuole fare la coaching, boh! Tre noi messaggi dove? Ok! Facciamo... Faccio l'ultima, poi magari facciamo altra creativa perché non posso parlare! Va bene, va bene! Comunque... Abbiamo 50 persone sul Discord Due K sono passati! Sì! Ah, dobbiamo anche vedere un po' chi... Vai, Anto! Perché io gli ho lasciato un più ruolo follower perché alla fine c'è il bot che glielo mette in automatico Vai, ragazzi, mettete tutti un bel... una bella condivisione che vi arriva una monete! Moshi, per giocare con me ora ci sono nove regole! C'è il Discord nel link in bio chi è nell'accademia o nel team può giocare con me! Domani ci sono i proviri per decidere se entrare o meno nel team o nell'accademia! Dove stai, Moshi, comunque? Cosa? Sì, ti sento! Va bene! O basso! No, no, no! Va benissimo! E ma non spunta il server! Come non spunta il server, ragazzi? Dovete andare... Quando fate il link in bio vi porta su una pagina andate con i tre puntini a destra c'è scritto apri dal browser lo aprite dal browser e fate unitevi L'unico modo è così, ragazzi Mamma mia! Se ci riportiamo un'altra bella win Non è che senso non su Discord? Cosa intendi? Ancora 50 secondi, ragazzi! Se non condividete la live non prendete le monete, eh! Solo chi le fa individere le può prendere 40 secondi per prendervi delle monete Così, così mi gioco col cecco? Non può entrare! Io mi trovo bene tu sai che mi piace il cecco quindi io ci gioco sempre se posso col cecco eh, doppio cecco è broken in zero bill sì, io lascerei la R non lo so eh, ma la secondaria ci vuole eh, la mitraglietta non lo so, io di solito uso la R come secondaria? la R quello, sì che ha il fire rate alto quello tipo SCAR dai ok comunque ho l'endato di merda non so dove stessi guardando non ci arrivi? i gu, i gufi guarda muova là non ci arrivi? no vabbè cioè, vengo vengo a piedi ho 28 di ping e ho la X gialla io 43 cosa vuol dire la X gialla? eh, che c'è tipo il packet loss c'è gente? siamo contestati mi sa io sono il più basso e ho messo meglio sono altissimi e sono lì subito un pompa buono non lo so guardavo i gufi mentre attaccavo eh, uno ti arriva uno ti arriva e sopra no, ne ho due dove? eh, non ho armi devo ricaricare? no, no, grazie io sto bene così uno fatto grazie per le donazioni ragazzi eh, non ho armi eh, per forza mi ha preso il finish sta rest... non ancora sta restando ora il compagno ora ora sta restando hanno armi vaigli subito vaigli subito dove sono morto io? proprio a sinistra vai che cavolo grazie per le rosa bravo bravo porca troia buono vai che siamo di nuovo dentro avete capito perché lui è il team principale si può sempre contare su Dark prima volta su 5 che siamo qua contestata comunque mi senti Dark? si si prendo la R ho lasciato un'arma io pompa se vuoi c'è questo c'è il pompa quello nuovo bianco allora ok mi prendo lo spamone ho due bacche per ora come ci hanno fatto tutto il bot davvero? non è vero non mi ha aggiunto al server ti aggiunge subito gli aggiunge al server Dark non ho capito in che senso non lo so in che senso non ti ha aggiunto al server cosa intendi? vieni ah scusa aspetta ma i barili del ah so andiamo ancora dietro dell'accademia ah dell'accademia e devi scrivere in generale accademia scrivi accademia in generale poi ti mettiamo in accademia ok c'era un R blu ok si l'ho droppato c'è la roba del del DMR no vabbè no io ce l'ho già quello termico mi trovo bene con quello termico anche scudone bo dai lo tengo non lo so non ho molte cure che dici? ah beh andiamo a vedere o ci facciamo ci facciamo le bacche così ci facciamo 30 di vita in più a testa beh l'ultimo il laghetto qua si c'è ragione c'è ragione c'è ragione dove? dove col termico ok neanche una volta neanche io 18 senza 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 non spunta non lo so no aspetta tanto stiamo giocando dark ti deve mettere nell'accademia e non è una cosa che fanno in automatico lo deve fare dark ma sto giocando eeeh vieni da me dark perchè il bot non può scegliere chi deve andare in accademia vieni da me quindi da soltanto il ruolo basso ah ma che cavolo te le sei prese tu cosa? gli scudini ah spero eh no 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 ho fatto le bacche perché pensavo di prendere io gli scudini hai un big tu? si vieni e andiamo a campo quindi tu hai un medikit eh si adesso è uscito buono eh 4 killette ce la forse non la perdiamo ancora vero? dovesse finire così prendiamo già punti vero? si ottimo hanno loot campi? no è loot loot e loot questa casettina erano loot ho reutato il campo blue non sto portando la mitraglietta io voglio provare a cambiare un po' anche a vedere come mi trovo meglio qua c'è un medikit uh 3 medikit che cavolo eh lascio le le apiccicose sai che gioco? mi sento meno confident quando non ho il cecco in mano perché non hai un ma no anche perché ho la R ho la R quello con il visore con il mirino quadrato praticamente per me non mi piace eh già perché è da un rinculo della madonna esatto è come non avere niente praticamente per me non mi trovo pistola ranger spuma o due shieldoni? che dici? spuma se vuoi la prendo io al posto del medikit ne ho solo uno va bene vabbè sono 15 di spuma ah no 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 ok a questo punto proprio me la faccio treno sta arrivando a destra Samu posso allenarmi con voi noi non ci stiamo allenando raga noi stiamo giocando per il torneo ti prego Anto ma tu sei fai parte del team dell'accademia se tu fai parte dell'accademia facciamo un paio di allenamenti in accademia se diventi un po' più forte che poi mi risfidi e mi batti entri a far parte del team terzo scudone ok sai cosa ti sfido ora? ma cosa mi sfidi? io ho delle ali eh che volendo posso buttare io ho 5 impulso andiamo a destra ci prendiamo il bot c'è ancora? qua c'è ancora il bot andiamo adesso? si quindi intanto si si a 1v1 no no oggi niente v1v1 ragazzi oggi dobbiamo arrivare ad oro per fare il torneo dopo di questo mi sa che tocca fare un po' di creativo facciamo un po' di creativo non il cil mi hanno già arrivato tre volte e ho detto oh ma te la pianti di parlare? non c'è il bot non c'è il bot facciamo i medici non so se tenere la k4x però non ho cosa veloce poi no tengo uno per ho le ali dai dark aggiungimi al server dark aggiungimi al server sta giocando raga che vuol dire? ci muoviamo sempre tutto automatico mi prego sei già rintro al server caro vi dà pure il ruolo andiamo dark andiamo a prendere il bot l'assù non era cattivo dove sono i medaglioni? non ne vedo ancora neanche uno in mappa come mai? si sono vagati o? lo diado e non l'ho preso non lo volevo di cattivo quindi non so perché non li vediamo non so che mal di schiena ma è macchinotto macchina? ah da prendere ok quant'è l'ha pagata sta Lambo? 3500 v-back tu si che stai bene va? eh? tu si che stai bene i soldi va? vabbè vecchio ne avevo 100k di v-back ho detto usiamo oh mi devi fare avere un po' di v-back oh gente davanti eh non sali a sinistra ah ok vecchio sali a sinistra si siamo safe munkateli qua davanti li prendi 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 ah come li prendi vabbè dai c'hai l'energia 2 vabbè non l'ho posizionato proprio la cazzo di cara poi che abbiamo kill facile 29 solo blu dietro la roccia a Zeus in mano 26 52 37 ha craccato bravo sopra occhio 24 24 blu non mi arriva più di così eh 22 eeeh che dici? loro sono fuori safe devono entrare mi vado a vedere un attimo questo loot qua e torno sono qua dietro oh un cecco buono 4x sono qua dice spiderman dice spiderman devo cambiare il posizionamento armi ok che dici vecchio? che dici vecchio? vuoi stare qua non vedo no se ne sono andate secondo me hanno fatto il giro più largo si sparano dove sto andando io la rara arrivo con te vogliamo andare in città? vogliamo andare in città? cerchiamo di prenderci kill scusa ma se nel round 2 vince vince 100 euro chi vince la partita basta camperare si però la vedo difficile stanno restando eh perché in end cioè comunque non puoi camperare perché arrivi che la safe si vinta quasi completamente vediamo se riesco a ciocchinarlo non lo vedo è quasi peggiora si gli sparano prendi like come cazzo saliamo qua c'è eh qua c'è roba c'è lo sniper 4x blu? buono blu che dici? ali? prendo il cecchino occhio che è uscito dalla casa occhio che è soprattutto casa arriva uno è dietro al muro faccio giro da sinistra sopra sopra due uccelli 110 al primo doppio doppio ti arriva l'altro giù 105 morto l'altro dovrebbe essere ancora qua da qualche parte non lo vedo eh prendo questo blu prendo questo blu qua sei shieldini che cure porti tu? sei shieldini non so dove sia posso lasciare le ali ormai non mi servono più niente porto porto i bunkatili tre bunkatili che dici? non sono scappati con uno di vita a testa porto la taglia? eh quello di prima vada a me non ci sono 27 morto bravo ovvio che c'è ancora gente che sei kill mi hai fatto bravo dark non mi piace sto posto sai davanti davanti macchina la concessione 110 hanno skin 110 hanno skin a terra hanno skin non posso fare nient'altro ottimo avevo tutto scarico grande 50 secondi safe buono 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 più devo sai cosa tornerei indietro lì alla stazione? no non posso più mi sto allenando duramente buono ragazzi eh fa male sta safe siamo in safe io no vorrei bianco io si dove sei? sono davanti eh con le ali e le stanno sparando non ho il pompo a carico bravo 110 a 1 110 all'altro voglio tirare giù il bot niente siamo in safe è sempre bravo dark me lo faccio 20 di vita cosa dici? bene ci mi era anche là ancora 121 ancora dove non ho visto? ok sopra la collina è one occhio che se il bot è lì vuol dire che c'è un altro lì infatti lo vedo morto 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 puttana vecchia 110 siamo in safe 110 si muovono in là però siamo in safe no oh non ho la mia Lambo questo sono pazzo 50 ho tutto scarico ho solo pompa 121 io ho solo ho solo il cecco io bravo io ho solo il cecco mi sparano ce n'è uno lì no no faccio il bonchal senza mireno perché non lo vedi vai tra vai una terra sinistra terra ho piazzato 121 watch 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 non ho non ho per avvicinarmi bravo questa la voglio su youtube non ho fatto niente io ma la metto questa la metto ma non ho fatto niente ma la metto questa va messo voglio fare voglio vedere quanti assist ho fatto voglio vedere quanti assist ho fatto e quanti quanti danni argento 2 10 kill ho fatto statistiche partite assist 7 ti dico solo che ti ho fatto 7 assist con 1800 di danni bella oh ma sai che potremmo anche vincerci 200 euro di grana no la gente che ce l'ha è un altro bene abbiamo giocato benissimo abbiamo giocato benissimo io me ne farei un altro parla di meno fai quello che vuoi io son carico dark vorrei tenermi ricordo di questa partita fantastica